La federazione della sinistra si unisce ancora una volta per raccogliere le firme riguardo il referendum contro i vitalizi e per impedire la privatizzazione di ACEA. Un centinaio le firme raccolte, in un quartiere come Grotta Rossa era sempre difficile per la sinistra. La gente comunque si è dimostrata interessata all'iniziativa, scongelando in alcuni casi la diffidenza verso le bandiere rosse. Da quando è cominciata la campagna di raccolta firme per il referendum, i risultati non si sono fatti attendere. In tanti comuni del Lazio e in tante zone di Roma, i manchetti stanno mettendo, portando ad alti livelli la campagna. Avanti popolo! La polverina è data il vitalizio anche a quelli non eletti. Ci arrabbiamo davanti al televisore, però poi magari per mettere una firma c'è fretta, non fa la spesa, non compensati da un sacco di cose. Ci riuscivamo a arrabbiare solo davanti al televisore. Poi cambiamo canale, è tutto a posto. Invece questi continuano a sfruttare, c'è una cisa. Il senato di Grotta Rossa raccoglie le firme contro i vitalizi, questo privilegio medievale, verso i consiglieri e gli assessori regionali, per cui in questi tempi di grande crisi vogliono far pagare loro per tutto il resto della vita. Raccogliamo anche le firme per l'acqua, per cercare di far applicare il risultato alla maggioranza degli italiani sull'acqua, che invece non vogliono rispettare. I'm sending out an SOS I'm sending out an SOS I'm sending out an SOS